Siccome i responsabili che hanno dato la concessione, che è poi stata tolta, che hanno dato il finanziamento, devono pagarne personalmente. Cioè non è possibile che in Italia non paghi niente, che uccidano un'azienda, che mandino per strada dei lavoratori e che nessuno paghi mai. Qua nessuno paga mai perché il burocrate è intoccabile, deve pagare. Ed è questo siccome un cambio di passo. Questa è una roba in svizzera. Perché purtroppo, cosa succede viceversa? Che tanta burocrazia, anche in buona fede, ha paura di fare qualcosa perché se fa qualcosa viene punito. Noi dobbiamo dire anche che se non fa qualcosa viene punito. Perché il suo lavoro è di velocizzare le pratiche e dare delle risposte. Questo è bellissimo. Non soltanto di bloccare. In Italia è passato il concetto che chi non opera non sbaglia, quindi sono tutti fermi. Esatto, quindi sono tutti fermi. E poi c'è un secondo problema. Io oggi sento parlare, tutto quel mondo di sinistra, che festeggiava la globalizzazione viva. Apriamo le frontiere a qualsiasi tipo di merce, a qualsiasi tipo di paese. Evviva, Prodica andava in Europa. Noi protestavamo, ricordo al tempo. Che andava in Europa a dire, via qualsiasi dazio, via qualsiasi cosa. Noi ci troviamo a competere, le nostre imprese, con produzioni dove ci sono minori che lavorano. Dove non vengono rispettate le norme sull'ambiente. Dove le ore lavorate sono 18 su 24 se va bene. Dove si lavora di notte, di giorno non stop. Come possiamo pensare che la nostra impresa competa? Cioè, o noi quindi abbiamo la forza di andare sul mercato globale a dire, chi vuole stare a competere con noi, chi vuole entrare nel nostro mercato, deve rispettare determinate regole base, altrimenti quei paesi nel mercato non entrano. È molto semplice. Noi dobbiamo fare però pressione. Invece siamo sempre inchinati, e guardi non faccio adesso invece un discorso destro-sinistra in generale, inchinate alla legge del mercato a prescindere. Peccato che il mercato non era il nostro, non era quel 90% di piccole, medie o micro imprese che producono e danno lavoro nel nostro paese, ma erano le multinazionali che hanno sfruttato il nostro mercato facendo produzione in altri paesi. A questi giochi è impossibile starci. Sono regole che a noi non possiamo starci, perché abbiamo di diverse.